Sì, ciao e buongiorno. Io sono una iscritta e corsista dello chef Andrea Di Giglio e volevo semplicemente ringraziare pubblicamente lo chef per l'insegnamento delle basi e non solo che mi sto trovando e per come mi sto trovando. È una persona di grandissimo aiuto, di grande professionalità, molto chiara nelle spiegazioni. Io sono iscritta attualmente al corso di pasticceria lievitata e al corso sui bilanciamenti di pasticceria che mi interessa moltissimo perché è un corso che ha soprattutto una parte teorica dove lui alla lavagna è molto molto chiaro e addirittura è tutto un mondo che io non conoscevo, per esempio ha fatto chiarezza anche per quanto riguarda le farine, le tipologie delle farine e poi per quanto riguarda anche la pasticceria lievitata che è sempre stata la mia passione e ambisco in questo prossimo Natale a poter fare di mio diciamo un grande lievitato come per esempio un pandoro o un panettone. Ma c'è proprio una magia che è un'altra magia che ha fatto che è molto molto più importante, è molto preciso, va molto piano ed è ripeto i concetti e quindi anche per persone che non sono del mestiere o semplici come me, amatori o così che non vogliono fare della pasticceria e il loro mestiere di vita è comunque di grande aiuto lo consiglio assolutamente a tutti, consiglio di iscrizione a tutti perché vale veramente la pena e non è come tanti, mi spiace la parola, ciarlatani che sempre si trovano sui siti, insomma sul web è una persona seria e di grande professionalità. Grazie